Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi, sabato 11 maggio, almeno spero di non sbagliare la data. Allora, che cosa è successo sui giornali? Beh, intanto la prima cosa che è successa è che la serie titola in maniera completamente diversa rispetto ai suoi concorrenti perché ha un'intervista al capo della polizia, Gabrielli. La polizia non è di parte, dice il capo della polizia, come se la polizia qualcuno immaginasse essere di parte. segnali nuove forme di razzismo e ci sono rigurgiti neofascisti, è quello che dice il capo della polizia dei rigurgiti neofascisti mentre al Salone del Libro di Torino i fascisti, presunti tali, non vengono neanche ospitati in un banchetto di alta forte. Insomma, i rigurgiti fascisti sarebbe interessante capire quali sono, quelli contro i fascisti, degli antifascisti o quelli dei fascisti contro gli antifascisti. Insomma, un gran casino. Un'intervista interessante per due punti di motivi, per due punti fondamentali. La prima perché il Corriere della Sera fa un'intervista tutto sommato di questo tipo e apre su un'intervista tutto sommato di questo tipo al capo della polizia due ipotesi. La prima è che sia un accreditamento dell'editore che in questo momento Urbano Cairo vuole e ci sta a rendere istituzionale il suo giornale sempre più accreditato con quelli che contano, il capo della polizia, i magistrati, il capo del Presidente della Repubblica che presenta il Giro d'Italia con lui. La seconda ipotesi è invece più che un accreditamento, un segnale, cioè il segnale che il capo della polizia voleva dare. Attenzione, Salvini ha le divise della polizia, è il ministro di interno di Poliziotto, però insomma la polizia fa il suo mestiere. Boh, non so quale delle due valga. Detto questo, l'intervista non è di grandissimo interesse se non questi due accenni che vi ho dato. Sondaggi, ieri gli ultimi giorni dei sondaggi, oggi tutti quanti li hanno ripresi perché cosa è successo? La Lega è carata di 6 punti in 20 giorni, è arrivata al 30% e il Movimento 5 Stelle è al 22%, il che vuol dire una distanza come nota Bruno Vespa oggi sul quotidiano nazionale di 8 punti percentuali, bene o male che sia, è in questo range che si gioca la partita dell'Europa. Se dovessi aumentare questo range sarebbe interessante per la Lega e preoccupante per i Movimento 5 Stelle, altrimenti, come dice Vespa, se il range si dovesse diminuire, ovviamente il Movimento 5 Stelle potrebbe dire di essere in purgatorio, ma certo non nell'inferno. Travaglio ci parla di Salvini non più come il truce, come dice Ferrara, non più come il cazzaro verde, come ha sempre definito Salvini, ma come il pallone gonfiato, che quindi si sgonfia nei sondaggi, così come si sgonfiarono a suo dire Mussolini, Craxi, Berlusconi e Renzi. Qualcuno in un pezzo oggi nota giustamente come alcuni leghisti abbiano detto a Salvini non fare come Renzi, capitalizza subito la tua forza elettorale e vai ad elezioni anticipate. Insomma, Renzi è una specie di spettro per quanto riguarda Salvini che circola anche nel suo entourage leghista. Ad Alberto Signore invece oggi sul giornale ci dice che molti ministri, Erika Stefani, Centinaio, Giorgetti stessi, stanno consigliando a Salvini di mollare questo governo per motivi più o meno simili. Panarari sulla stampa ci dice che l'elettorato è sempre più liquido, lo sapevamo, devo dire anche noi, ma è finito quel mondo delle subculture politiche per cui stai con uno o non stai con l'altro. E quindi quello che dice Panarari, attenzione, perché il voto cambia molto ma molto rapidamente. Adesso abbasso questa suoneria. L'altra vicenda che i giornali, alcuni mettono in prima pagina, altri no, poi dopo ritorniamo su Salvini perché c'è il decreto di sicurezza bis, è la vicenda di Montante, Montante dovete sapere che era il delegato alla legalità di Confindustria della signora Emma Marcegaglia. Marcegaglia e Montante erano una coppia fissa, era il periodo della legalità, dell'antimafiosità, Montante non si spostava una piuma senza che in Sicilia Lobello e Montante non decidessero chi era mafioso e chi non era mafioso. Bene, in primo grado è stato condannato a 14 anni, Montante, l'uomo della legalità scelto dalla signora Marcegaglia per la sua Confindustria legalitaria, è stato condannato a 14 anni per associazione a delinquere proprio per uno strano dossieraggio che aveva nei confronti di coloro che non si sottoponevano alla sua censura antimafiosa. Quindi veramente il professionista dell'antimafia che come altri, mi sembra il presidente degli aeroporti di Catania, come altri fenomeni dell'antimafia, poi diventano i primi ad essere condannati per mafiosità, non mafiosità, per delinquenze varie, mettiamola bene. Decreto sicurezza bis, tutti si rivoltano, quelli di sinistra e i grillini, su questo nuovo decreto di sicurezza bis che prevede pene fino a 5.500 euro per ogni migrante che è sbarcato in Italia da parte di coloro che lo sbarcano in Italia, chi salva paga, titola Repubblica, proprio basandosi su questa novità del decreto sicurezza e sui porti decide il Viminale e non più il ministro dei trasporti che risponde alla persona di Toninelli, cioè del Movimento 5 Stelle. Intanto riprendono i morti, almeno 60 a largo della Tunisia per gli sbarchi, ma qui oltre alle questioni di cronaca anche dolorosa, la vicenda fondamentale è che Salvini, su questo decreto bis ha arrogato a se stesso il Ministero degli Interni dei poteri che erano un po' sparpagliati all'interno del governo. Questa cosa non piace ai grillini che vogliono assolutamente che venga rivisto questo decreto sicurezza bis che li rimetta un pochino più in sesto dal punto di vista del ruolo all'interno del governo. Facebook sarebbe da dividere in tre, si dovrebbe dividere Facebook, da Instagram e da Whatsapp. Questa cosa non la dice un'autorità antitrust, ma la dice uno dei fondatori evidentemente che ha litigato con Zuckerberg che si chiama, in un pezzo su New York Times, che riprende oggi con grande evidenza ovviamente il sole 24 ore. Ebbene far il giornale di Fabio Damburini a ricordare come Facebook che entra nelle nostre vite così prepotentemente, secondo il suo fondatore è diventato una specie di monolite che potrebbe mettere a rischio il nostro futuro, la nostra sicurezza e dei nostri dati. Ultima questione, il boom delle partite IVA nel primo trimestre del 2019 è un dato importantissimo, il sole 24 ore ma non solo lo certifica, i numeri sono chiari, nel primo trimestre del 2019 ci sono state 196.000 nuove partite IVA, più 8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, ma la cosa che più conta di queste 196.000 partite IVA, 104.000 sono con il regime forfettario che dal passato, che da questo governo è stato portato a 65.000 euro. Insomma la flat tax ha fatto sì che molti aprissero questa partita IVA o è molto più presumibile, molti che prima avevano dei rapporti strani, di collaborazione, di dipendenza strana, evidentemente preferiscono proprio perché è più conveniente fiscalmente avere una partita IVA invece che una trattenuta da lavoratore dipendente. Mi auguro che questo non venga vissuto come una specie di scandalo, ma semplicemente come la cosa più banale del mondo, cioè io vado dove ci sono meno tasse possibili. Vi ricordo come sempre gli appuntamenti, intanto tra poco troverete Ruggeri sul sito nicolaporro.it, anzi lo trovate in questo momento Riccardo Ruggeri che prende il caso Fubini e lo racconta a modo suo, cioè il caso della verità, della verità nascosta, dell'autocensura dei giornali, lo racconta a modo suo sul sito nicolaporro.it e poi come sempre, come sempre lunedì Quarta Repubblica e martedì sera Matrix. Direi che per oggi è tutto, ci sono tanti altri articoli di retroscena, sullega, quanto dura, quanto non dura, come stanno litigando e bisticciando come momento 5 stelle, direi che il tema fondamentale oggi è proprio quello di capire quanto questo governo durerà e su quali basi farà l'accordo fino a queste europee. Ciao!